La scelta del nuovo allenatore è sicuramente il primo tassello che darà il via la stagione 2022-2023 nelle linee programmatiche del campo basso. La dirigenza è già attiva da tempo per prepararsi nel migliore dei modi alla seconda stagione Lega Pro. Il nome di Prosperi è sicuramente quello che trova maggiori riscontri. Il tecnico del Vasso Girardi è impegnato nel finale di stagione con il club Alto Molisano. La squadra del patron di Lucente ha bisogno di cambiare marcia nelle ultime tre gare di campionato a partire dal turno infrasettimanale previsto domani. Prosperi è un profilo ma ce ne sono anche altri al vaglio della dirigenza rosso-blu. Sulla squadra la prima base è quella del minutaggio dei giovani. Il nuovo campo basso partirà dai ragazzi da individuare in precise zone del campo. Il portiere ed i tersini sicuramente come d'altronde abbiamo visto nella stagione appena conclusa. In seguito anche con le indicazioni del nuovo mister saranno dislocati in campo altri due juniores tra centrocampo e attacco. Il minutaggio è una base economica troppo importante per affrontare un torneo dispendioso come quello di Serie C. Non ci sono i dati ufficiali dei compensi che la Lega Pro ha elargito alle varie società. Ad occhio e croce possiamo individuare in circa 300 mila euro il ritorno economico per il campo basso. Date alla mano dovrebbe essere questa la cifra complessiva del minutaggio. Dunque si proseguirà su questa strada e il nuovo mister dovrà incarnare nel migliore dei modi la linea societaria. Lega Pro in campo giovedì con le gare di ritorno dei play-off. Cinque incontri in serata per decretare le squadre qualificate al secondo turno nazionale. Dopo le sfide di giovedì si entrerà di fatto nella Final Eight con l'ingresso delle seconde classificate al termine della stagione. Precisamente Padova, Reggiana e Catanzaro. Sabato previsto il ritorno dei play-out nel girone C. La Fidelissandra in casa cercherà di ribaltare l'1-0 maturato dalla Paganese sabato grazie alla marcatura di Cretella. Manca ancora qualche giornata nel campionato di Serie D. Le ostilità in quarta serie si chiuderanno domenica 22 maggio. In merito alle promosse con possibile destinazione girone C, il Cerignola e giacolamente la stagione nei professionisti dopo aver festeggiato la vittoria del campionato da due settimane. Nel gruppo I sono in lotta Gelbison, Cilento e Cavese con i primi in vantaggio di quattro lunghezze mentre nel girone G il Giuliano ha sei punti sul team Nuova Florida a cinque gare dal termine. Nel girone F è festa per la Re Canatese che ha comandato in lungo e largo il torneo. Il successo in casa dell'FC Matese ha dato in là ai festeggiamenti. I canarini sono tuttavia destinati al girone B di Lega Pro.